Il Fil Rouge è da molti anni sempre lo stesso. Arte, letteratura, teatro, comunicazione all'insegna dell'impegno civile e sociale, ricordando uno straordinario regista teatrale d'opera e televisivo prematuramente scomparso nel 1980 ad appena 52 anni e legatissimo alla Riviera del Conero. Il premio, intitolato a Frank Enriquez a Sirolo, giunta la diciassettesima edizione, è dedicato stavolta al coraggio, declinato come voglia di ripartire ma anche come riconoscimento a coloro che hanno tenuto duro in questi lunghi mesi di pandemia. Sei appuntamenti dal 5 al 30 agosto al Teatro Cortesi e dal Parco della Repubblica, quest'ultimo ospiterà il concerto di Massimo Bubola. Tutti, come nella tradizione, all'insegna della qualità. Per arrivare poi alla serata conclusiva dove si allungherà l'elenco dei 350 artisti già premiati e tutti contraddistinti dall'enorme passione per la cultura, intesa in senso ampio, quasi come stile di vita. Il maestro Paolo Larici è l'anima di queste iniziative. Noi anche l'anno scorso abbiamo resistito in qualche maniera e abbiamo fatto il nostro calendario di Sipario Aperto, che era la 22esima, quest'anno era la 23esima edizione, che è la vetrina del premio. E avevamo dato praticamente comunque un cenno di ripresa. Quest'anno, ancora più, con le difficoltà che ci sono, insomma, e quindi distanziamenti, eccetera, eccetera. Questi luoghi sono, per esempio, nelle Marche ce ne sono 100 di questi luoghi, luoghi voluti dal popolo, nel senso che questi erano teatri condominali, cioè costruiti praticamente per stare insieme, in comunità, per vivere il senso dello spettacolo, del rito dello spettacolo, che è un dare, uno scambio tra palcoscenico e platea. E quindi voglio dire che questo è fondamentale. Se noi chiudiamo, se noi, come possiamo dire, mettiamo un bavaglio o delle catene o delle manette, insomma, voglio dire, a questa possibilità di libertà, di fruizione, secondo me andiamo verso una china senza ritorno, perché apriamo sempre di più spazio a forme di spettacolo che non hanno nulla a che vedere con lo spettacolo dal vivo, secondo me. Cioè, il teatro è un'altra cosa. Entriamo un po' nel dettaglio di questo cartellone, dal 5 al 30 agosto ci sono sei appuntamenti. Sì, allora, iniziamo con uno spettacolo che è stato un testo premiato nel 2011 di Erika Rigamonti, che è Binario 7, affronta un tema che allora era non sospetto, nel senso che non è di moda, voglio dire, non era di moda, come sembra oggi, voglio dire, nel senso che si cavalca, no, questa cosa. Ma era la violenza domestica, la violenza sulle donne. Quindi era un tema molto forte che noi abbiamo allora, la giuria premiò per questo impegno, insomma. E oltre che chiaramente per la valenza della letteratura proposta. Quest'anno diventa un contesto che si trasforma in teatro. Chiaramente è una miss in espace, cioè voglio dire una lettura con base interpretativa e quindi con dei momenti che si alterneranno tra interpretazione e memorica e praticamente lettura e che verrà allestito qui dal 4, chiaramente stanno provando già in altri luoghi, ma poi nascerà proprio qui. Quindi il 5 ci sarà questa cosa. Poi si proseguirà lunedì 9 agosto con un nome abbastanza celebre, Massimo Bulan. Sì, Massimo ormai, voglio dire, a parte che è una persona squisitito, un amico, ma a parte questo un grandissimo artista, cioè stiamo parlando di uno dei più grandi autori probabilmente e intellettuali italiani. La collaborazione, quella che lo rese famoso, fu quella con Fabrizio De Andrè con l'album Rimini e successivamente Hotel Supramonte, ma chiaramente dentro ci sono testi e canzoni meravigliose che hanno toccato temi sempre cari a De Andrè, cari a Massimo. Ma la cosa bella è che in qualche maniera vogliamo sempre sottolineare, diciamo, anche qui, la canzone d'autore sì, ma quale? Una canzone d'autore di altissimo livello. Cioè voglio dire, non andiamo su altri cantanti, abbiamo scelto di andare su un uomo impegnatissimo, insomma, ecco, in questo senso. Poi due appuntamenti con il Drammateatro, prima di arrivare a Giovanni Nuti che canta Aldamerini, un altro nome celeberrimo. Certo, perché? Perché Drammateatro? Perché Drammateatro è uno di quelle compagnie, di quei, come dire, è difficile da definire in una parola, non è una compagnia, è qualcosa di più, perché loro hanno un progetto che nasce proprio dall'esigenza di fare teatro comunque e dovunque. E loro forse da questo punto di vista hanno visto lungo, nel senso che, per esempio, questo spettacolo, il Macbeth, nasce nell'hangar di una birreria, loro sono praticamente di vicino Pescara, di popoli, e hanno messo in scena questa cosa con l'ausilio anche di personaggi del paese, che hanno in questo grande laboratorio, praticamente, si è creata una sinergia tra popolo e attori, insomma, in qualche maniera, tra non addetti ai lavori e professionisti, quindi, perché il teatro è entrato nelle case, capito? Questo è stato il gioco. Insomma, sinergia tra diversi linguaggi, mostre d'arte, teatro, musica, laboratori, conferenze, presentazione di libri, premio per la comunicazione artistica. Quando le qualità mirabilmente si coniugano all'impegno civile, tratto distintivo d'altronde di un personaggio, per certi aspetti unico, come fu Frank Enriquez. Appunto, nel volume che abbiamo realizzato, che io ho curato, su Frank Enriquez e il teatro di regia, diciamo che, appunto, sfogliando tutto l'album degli anni trascorsi, abbiamo notato che sono, diciamo, stati premiati più di 350 artisti, quindi, voglio dire, mi sono anch'io, diciamo, un po' meravigliato, ma ogni anno non si può non dare spazio a tante realtà differenti, in senso che questo è un premio che guarda alla cultura in senso generale. Quindi, abbiamo toccato già, in anni non sospetti, grandi temi letterari, poi grandi temi teatrali, grandi temi musicali, che sono andati dalla musica, voglio dire, classica, sinfonica, voglio dire, fino a arrivare alla musica contemporanea e quindi al cantautorato, no? Al senso, voglio dire, della fusione tra parole e musica, che è storicamente, voglio dire, uno degli esempi massimi di poesia. Quindi questo è, diciamo, è un percorso che negli anni, no? Ci ha, in qualche maniera, contraddistinto. Questo è il fil rouge. Quest'anno una particolarità, però, cioè, verrà premiato anche un museo particolarissimo, il Museo Tatti Lomero di Ancona. Sì, perché dobbiamo tanto ringraziare il professor Grassini e la sua compagna, che in questi anni hanno, voglio dire, 27-28 anni, mi sembra che sia, dall'apertura di questo museo, andando, diciamo, a contrastarsi, a volte a combattere con una realtà magari difficile da far capire, no? Perché, diciamo che, qual è il compito? È stato il loro grande merito. È stato quello, appunto, di trasformare ciò che vediamo con gli occhi, no? Diciamo, in un altro senso, cioè quello della tattilità, cioè del toccare l'opera. L'opera non si poteva toccare. In un museo l'opera non si può toccare, si deve stare distanti dall'opera. Qui è il contrario. Si deve avvicinare, si deve toccarla, si deve avere rapporto con l'opera tattile. Quindi questo è una trasformazione, secondo me, geniale, capito? Sotto tanti aspetti, ma sensorialmente parlando, è qualche cosa che trasforma il senso del fruitore dell'opera, cioè il valore proprio dell'opera stessa. Oltre al Museo Tattile Omero di Ancona, sarà premiato anche il maestro Michele Pecora, che ha rimarcato proprio come il ripartire dalla cultura è la speranza a cui appigliarci per vivere momenti migliori. Non da ultimo, ovviamente, Carla Fracci, l'etuale della danza per Antonomasi e protagonista a Sirolo al Teatro delle Cave in uno scenario incomparabile delle notti estive. Lei ha forse concretizzato al meglio quello spirito di dedizione totale tipico di Enriquez e di molti protagonisti di quella generazione. Noi avevamo premiato Carla e il maestro Venegatti nel 2020, cioè lo scorso anno, perché questo spettacolo, per cui noi li premiamo, è praticamente uno spettacolo del 2019, che era il poema della croce di Alda Merini, che è stato messo in scena a Milano con le musiche di Giovanni Nuti, che verrà premiato appunto anche lui quest'anno per questa cosa, e che però voglio dire dopo non è stato più rimesso in scena, perché con la pandemia è successo quel che è successo. Quindi aspettavamo appunto la signora Fracci quest'anno, proprio perché volevamo in qualche maniera suggellare anche un rapporto di amicizia con lo stesso Enriquez, che voglio dire era una cosa risaputa tra il mondo dello spettacolo. Ecco, purtroppo è successo quello che è successo. Però noi abbiamo pensato, siccome la nomination era di febbraio, il premio andava comunque secondo me consegnato e attribuito, perché diciamo che ha anche questo sapore di premio alla memoria, ma non è un premio alla memoria, è un premio che era stato dato per la sua interpretazione, perché lei recitava, quindi oltre che veramente a fare le sue movenze, eccetera, voglio dire rimane sempre l'icona della danza, cioè non c'è niente da fare. Però Carla aveva anche altre doti, assolutamente importanti. E in questo spettacolo il suo maestro, anche il compagno di vita che era Beppe Menegati, aveva fatto una regia modernissima, capace di darle anche un valore interpretativo nel ruolo appunto fondamentale, capito, dello spettacolo. E quindi abbiamo pensato di mantenere questa questa cosa. Chiaramente qui ad esempio viene rappresentata un esprit du ballet che fu fatto praticamente su un testo di Sacha Guitry, era negli anni, mi sembra il 1986 o 87 e qui praticamente eravamo al Teatro alle Cave. Qui c'era uno dei più grandi ballerini, Giorgi Anco, e questa è la Carla. Chiaramente è stata una serata importante, è una serata perché il Teatro alle Cave ospitava questi grandi personaggi e quindi quando io abbiamo voluto rendere omaggio anche a Carla con questa presentazione, ma già a suo tempo insomma, perché la mostra ha molti anni e noi ogni anno noi cerchiamo di fare qualche cosa di nuovo inserendo anche spezzoni di techerai, di cose che abbiamo su Franco, no? Però fondamentalmente rimane sempre questo che c'è stato al Teatro alle Cave, cioè quegli anni in cui il centro ha gestito la programmazione del Teatro alle Cave, 85, 86, 87, dove il festival aveva un riconoscimento internazionale.